Fermi! Fermi! Sembra una discoteca così? È un bel giorno, invece di ballare Nando e basta, balliamo Nando Mix, perché signori è uscito Nando Mix, Nando che sentiremo, me lo auguro, nelle discoteche, Nino! Nando Mix! Io ho due ballerine che pago e sono le le uniche due sedute, nel vocabolario deficiente c'è la foto di Ilaria Spada e Elisabetta Gregoraci, due ballerine, loro sedute, ballate voi, io non ho parole, o meglio ce l'ho ma non si possono dire in tv, signori Nando Mix, vai! Vai, fratello! Vai! 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 Vai, Toto! Vai! 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 Ammazzalo chi è? Vai, vai! Come c'è un bravola si piega di giù, schiorando il pavimento. Vai, Zanò! Gli otto cittosti diventano blu, perché non ce la fa più. Ammazzalo e balla Nando, vai! Ammazzalo e balla Nando, è il fronte o la linea del mondo. Ammazzalo chi è? Andevi come balla Nando, andevi come balla Nando. È proprio la fine del mondo. Ammazzalo chi è? Andevi come balla Nando, ammazzalo e balla Nando. È proprio la fine del mondo. Ammazzalo chi è? Come c'è un bravola si piega di giù, schiorando il pavimento. L'intensità del mondo. L'intensità del mondo è il blu, che non ce la città di più. Ammazzalo e balla Nando. Ammazzalo e balla Nando. È proprio la fine del mondo. Ammazzalo e balla Nando. A superclassifica show Nando. Ragazzi. Grazie.